In questo allenamento di MP Trainer faremo degli esercizi di ginnastica dolce, concentrandoci sulla parte superiore del corpo. L'allenamento è adatto a tutti. La durata dell'allenamento è di 4 minuti. Buon allenamento! Iniziamo l'allenamento di ginnastica dolce con questo primo esercizio. Distensione delle braccia in linea con le spalle. Movimento lento e fluido. Cambio. Ci conduzioni delle spalle indietro. Le braccia lungo il corpo, le mani a contatto con le gambe. Ci fermiamo e facciamo delle distensioni verso l'alto, portando prima un braccio e poi dopo l'alto. Quando porto sul braccio vado ad ispirare, quando lo porto giù vado ad ispirare. Insieme. 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Ci conduzioni indietro. Ci fermiamo. Portiamo le braccia in apertura. Chiudiamo i pugni e andiamo a fare piccoli movimenti con le braccia. I gomiti linea con le spalle. Il pugno si avvicina alle spalle. Ci fermiamo. Portiamo le braccia in questa posizione a 90 gradi e andiamo a lavorare aperture e chiusure. Inspiro quando vado in apertura e espiro quando vado in chiusura. Ok, da questa posizione distendiamo le braccia. Il braccio in linea con la spalla. Vado apertura. Primo un braccio e poi dopo l'altro. Mi raccomando, la respirazione. Cerchiamo di non lavorare in affanea. Essendo un'attività di ginnastica dolce, cerchiamo di controllare il movimento sempre lento e la respirazione sempre costante. Portiamo le braccia giù. Richiamiamo le spalle verso l'alto e le abbandoniamo verso il basso. Inspiro e ispiro. Poi piano piano facciamo delle circonduzioni indietro. Cerchiamo di ottenere un buon risultato di mobilizzazione delle braccia facendo il movimento lento e controllato. Cambio, lavoriamo in avanti. Ci fermiamo e facciamo degli scivolamenti lungo i fianchi. La mano che accarezza la gamba è verso l'esterno. Appena arriviamo in linea con il ginocchio ritorniamo su. Ci fermiamo. Il tuo allenamento di ginnastica dolce è terminato. Il tuo allenamento di ginnastica dolce è terminato. Il tuo allenamento di ginnastica dolce è finato. 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 Grazie a tutti.